L'Italia riparte. Ho cercato il compo. Cosa vorresti vedere tu? Gli amici che tornano ad abbracciarsi come una volta, così! Persone che ridono di cuore sono felici per Marco. Mangiare insieme del buon cibo. Vorrei ancora vedere il tifo che viene dagli spalti. Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento. E senza cincischiare facciamoci tutti il vaccino. Il vaccino è fondamentale. Con il vaccino vinciamo insieme. Riprendiamoci il gusto del futuro.